e quindi l'angelo del male si chiama il disco di baby gang appena annunciato adesso che parlo sono 11 minuti 80.000 like sul post instagram che sono veri diciamo nel senso che c'è un principio di verità lo possiamo trovare dal fatto che i commenti sotto hanno dei like insomma veritieri abbastanza rilevanti per il breve tempo e no ci tengo ci tengo perché adesso andiamo ad analizzare passo passo un prodotto di successo così che quando io parlo di prodotti che ostentano un successo che non hanno quali quelli di rondo eccetera eccetera vediamo la distinzione ci rendiamo conto di chi fa la serie a e di chi invece no e non perché a me interessi farlo ma perché insomma dobbiamo dare valore a le cose che ce l'hanno abbiamo davanti quello che sarà il prodotto musicale più rilevante probabilmente dell'annata a livello di probabilmente di quelli che saranno i numeri ovvio poi che io non magari non sono un grande fan cioè nel senso che non è che dici oddio lo attendo come attendo un disco di fibra o lo attendo come attendo un disco di marra no non sarà un disco che rivoluzionerà niente però sarà un disco atteso che vede tutta la scena riunita e che insomma non è uno scherzo cioè questo ragazzo comunque si vuole imporre sulla scena dopo tante situazioni difficili ed è il momento in cui finalmente si racconterà per quello che è per quello che sarà e secondo me è importante seguire a livello di marketing ogni mossa perché possiamo andare a imparare qualcosa e soprattutto ad avere una visione più chiara e nitida di quello che è realmente il mercato perché oggi è facile dopare tutto è facile bombare le vendite è facile apparire come quel che non si è poi c'è anche chi dichiara di essere quel che non si è eccetera in vari settori e invece cavolo dobbiamo ristabilire la realtà perché io sono stanco e stufo dell'ignoranza io quando parlo con le persone anche molte che danno consigli ma che consigli dovete dare se non sapete niente di certe cose io non ce la faccio più di vedere no come chi cioè partiamo dall'esempio più becero ah quello fa i balletti su tiktok e fai milioni ma su tiktok non guadagni niente non è vero è uno che fa i balletti su tiktok difficilmente riesce a monetizzare e questa è una cosa basica una cosa stupida però siccome nel mondo della musica in tanti stanno lì a dire mentre c'è gente professionista che magari veramente con 100 200 mila ascoltatori mensili ci porta a casa la pagnotta e ci campa la famiglia e va a musica in un certo modo c'è gente che magari illusa da persone che bombano il mercato si pensano di poter fare come gli pare e che succede che poi diventano clienti di prodotti e pagano e spendono e espandono e promozioni di qua di là studio eccetera ragazzi che poi hanno la sindrome del fallito perché dicono arrivano tutti tranne me no non arriva nessuno e anche i tuoi artisti preferiti probabilmente non sono arrivati probabilmente hanno i soldi di famiglia e investono per far vedere un qualcosa punto quindi di conseguenza è importante andare un attimo a fare chiarezza su che cosa vuol dire un prodotto di successo baby gang sicuramente ce lo offrirà è facile facile anche da dire non tutti questi featuring tutta sta roba con tutta sta attesa è facile che lo sia quindi ecco perché comunque un disco in cui sicuramente dopo dopo che ha fatto tanti progetti comunque che avevano quel marchio da galera che è passato di moda anche lì non dovete ragazzi finire in carcere amore recentemente ho visto tanto ragazzo che per delle cause vecchie è finito in galera tanto rapper non mi ricordo il nome però uno di questi che non è proprio qualcuno però non è neanche sconosciuto e che ha messo tipo un foglio con cioè un ha scritto delle cose su un pezzo di carta igienica per una foto da mettere su instagram ok non c'è niente di bello cioè io quello lì ok lui ci sta dentro ha fatto il suo ok ma non è figo chi ha vissuto la galera in prima persona o per parenti amici non è bello sei dentro quattro mura free young master mio brother che domani va in comunità per motivi stativi quindi legali come fosse tenuto che è stato pure in galera al vizietto del furto ma spero gli passi comunque nel senso cioè ragazzi non è bello è brutto è ridicolo è notte di cazzo gente che si ammazzano quanti suicidi cioè non è che non è per tutti capito cioè finiscono in galera certi personaggi ci sta e va bene lo sanno reggere ma poi non non facciamo la fine dei jordan jeffrey ok cioè impariamo dagli errori ora invece fare sempre quelli che stanno giù di morale ottio poverino è morto come ho già fatto è giustizia per lui tutto quello che vi pare sono dalla sua parte allora facciamo adesso la contro indicazione ci facciamo il contrario cioè iniziamo un attimo a ragionare su su cioè a sdoganare la cosa in modo tale che magari non ci finite non c'è niente di bello niente interessante anche la musica per carità figa però questo disco secondo me già dalla copertina c'è un qualcosa che esce fuori ci racconta un qualcosa che magari riguarda la vita al di fuori di quattro mura perché dopo che hai fatto un disco due dischi non c'è più nulla da raccontare sulla galera tra l'altro la copertina nel retro vede lui che gioca a scacchi con se stesso riprendendo quello che è stato drake e j cole riprendendo quello che è stato messi e ronaldo è figa come cosa il gioco di bianco e nero per carità si angelo e demone sopra tutto abbastanza banale da un certo punto di vista nel senso però in verità la parte veramente efficace di questa copertina è lui che ti guarda con questo doppio occhio uno che sembra che c'è lo sharingan perché lui è veramente efficace come personaggio secondo me e non avrà magari i testi di leopardi però anche i suoi testi impattano e ragazzi saper scrivere anche questo non fare cose complesse ma fare in modo che arrivi quindi bella per baby gang one love secondo me sto ragazzo spaccherà tutto gli mandiamo un abbraccione e commenteremo botta a botta le uscite